Allora, per iniziare, come al solito vi ricordo che in descrizione vi trovate il link che vi riporta la home page del sito www.pampling.com dove avete trovato un sacco di magliette, febbre, scarpezzani, anche prima metta, tutto riguardamente tema nerd, come la maglietta che indosso a tema di ritorno al futuro che mi piace tantissimo, quindi se vi interessa potete avere acquisti di prodotti con il 20% di sconto utilizzando i fessi di acquisti di sconto vi laszlo per acquisti inferiore ai 50€ oppure usate il codice POWER25 in caso doveste acquistare più di 50€ di prodotti, avrete il 25% di sconto ma vanno alle ciance e iniziamo subito con la recensione di oggi, sigla! Allora, oggi voglio parlare di un film che a me non ha fatto impazzire ma ho notato essere stato invece apprezzato da moltissime persone per cui voglio cercare di parlarne nella maniera più accurata possibile cercando anche di scindere quello che è il mio gusto personale dall'effettiva qualità del prodotto mi riferisco a 19 per la regia di Greta Gerwig ed è Piccole Donne un film che probabilmente è stato candidato agli Oscar e dico probabilmente perché questa recensione la vedrete dopo che sono state annunciate le nomination ma io la sto registrando prima e voi direte ma scusa non potevi aspettare di registrarla quando fosse uscita anche la nomination purtroppo in periodo Oscar ci sono tantissime recensioni che devo recuperare perché molti film da noi escono un po' in ritardo e i tempi sono quelli che sono per cui mi sono ritrovato a dover girare questo video per forza prima delle nomination ma siccome è stato candidato in varie categorie in diverse premiazioni credo che lo terranno in considerazione anche per gli Oscar non so se come miglior film penso che Saoirse Ronan verrà candidata probabilmente anche le scenografie e costumi in questi premi tecnici la candidatura ha senso non so però poi in quali altre categorie verrà candidato però comunque sia quello che penso di questo film è che è l'ennesimo film mediocre di Greta Gerwig Greta Gerwig è la regista di Lady Bird sempre con protagonista la Ronan che diretta da lei è particolarmente brava per me è un'attrice veramente capace ma effettivamente insieme alla Gerwig sembra avere una sinergia molto particolare che mi fa assolutamente piacere ora non sto dicendo che Lady Bird sia un brutto film dico solo che secondo me non era da candidare in tutte quelle categorie nel senso che è un film mediocre nel senso letterale del termine per me ovvero nella media so che il termine mediocre ha un'accezione negativa ma in realtà significa qualcosa che è simile a molte altre nella media non mi sembrava particolarmente originale come storia di formazione non mi sembrava scritto in maniera peculiare voleva avere un certo mordente nella scrittura che però secondo me non è riuscito poi a vedere a conti fatti e lo stesso vale per questo piccole donne io trovo la Gerwig estremamente sopravvalutata non è male come regista ma non mi sembra particolarmente brava particolarmente geniale nel senso che è una regista anche della media come ce ne possono essere tante ma in realtà dico registe non voglio dire proprio come regista a prescindere che sia uomo o donna proprio a livello di professione è una regista come ci sono tanti altri registi e registe in giro non mi sembra niente di particolarmente eclatante quello che lei va a dirigere e piccole donne è tratto dal libro di Louisa May Alcott e qui devo fare una premessa il libro per me è sempre stato una mattonata sulle palle questo probabilmente ha influenzato il mio giudizio sul film perché la storia non è mai stata nelle mie corde anche il film precedente quello con Winona Ryder quello degli anni 90 non è che mi avesse fatto impazzire ma secondo me aveva qualcosina in più rispetto a questo la Gerwig è stata sicuramente brava nel cercare di rendere la narrazione un po' più fluida alternando continuamente due linee temporali quella del presente e quella del passato e l'idea di base secondo me è vincente è giusto perché dovrebbe dare ritmo al film il problema è che secondo me il ritmo non l'ha dato perché avevamo momenti scene di 3, 4, 5, 10 minuti riferite al passato poi si passava presente per 20 secondi e poi si tornava al passato c'è un cambio di linee temporali che è quasi epilettico a un certo punto e io ero molto infastidito da questo perché quasi facevo fatica a seguire la storia se tu vuoi giocare un film sull'alternanza tra passato e presente devi saperlo fare non puoi buttarmi 5 minuti nel passato 20 secondi nel presente 6 minuti nel passato 1 minuto nel presente 10 minuti nel passato ma fai qualcosa di equilibrato cerca di amalgamare la storia in maniera organica per me non è organicità poi ho letto di tante persone quando io ho scritto che per me il film era stato molto mediocre e dire no non è vero io sono stato molto coinvolto e dalle linee temporali che continuavano a cambiare va bene vuol dire che è piaciuta questa cosa io l'ho trovata sbagliata non dico che non possa piacere per l'amor del cielo a me non è piaciuto per niente l'ho trovato mal fatto cioè l'esperiente non è stato ben utilizzato e io ho utilizzato un aggettivo io cerco sempre di andare un po' oltre il mero gusto personale la mera emozione che mi provoca il film per cui evito di utilizzare termini che esemplificano un po' troppo quando giudico un film però stavolta c'è un termine un aggettivo che mi frulla in testa ed è palloso è una cosa molto personale sicuramente io l'ho trovato veramente tedioso palloso però è il termine giusto non mi è piaciuto come hanno raccontato la storia la storia dei piccole donne è una storia pensata per ragazzine ovvio era quello il target quindi è una storia anche molto datata che la Gerwig ha cercato di svecchiare secondo me non riuscendoci al 100% secondo me non c'è riuscita proprio però comunque ha provato a svecchiarla inserendo anche delle secondo me modernizzazioni per renderlo un po' più adatto al pubblico del 2019 slash 2020 perché da noi è uscito da poco ed era già il 2020 quindi ha cercato di puntare un po' di più sulla componente più femminista se vogliamo se voi leggete il libro più che femminista lo definirei progressista in alcune sue parti e nel film comunque viene spiegato che quando una scrittrice proponeva qualcosa del genere l'editore imponeva certi stilemi da cui non si poteva uscire come il se vuole portarmi altri racconti la protagonista è una donna alla fine deve sposarsi oppure morire per me è uguale che è una frase molto forte quindi ha cercato di attualizzarlo e nel film si cerca di far capire che va bene il fatto per l'epoca ovviamente che allora se sposarsi almeno si doveva sposare per amore non perché bisogna sposarsi viene analizzato il matrimonio come spediente economico per salvare una famiglia ci so ha cercato di renderlo un po' più femminista però secondo me ci sono delle forzature ci sono delle forzature che sono troppo riferite a quel politically correct che l'academy ama e quindi c'è stato un po' di paraculaggine che però poteva starci in questo specifico contesto in quanto già il testo principale cercava di tirare fuori un minimo di progressismo in più ma poi rimaneva intrappolata quella storia nelle dinamiche tipiche dell'epoca perché giustamente Luisa May Alcott voleva mantenersi con i propri scritti e doveva sottostare a certe regole assurde dovute per l'appunto agli stilemi sociali dell'epoca ma cercava di staccarsene il più possibile per cui capisco perché la Garewig ha voluto fare questa cosa però l'ho trovato un po' un po' forzato un po' anche ridondante in alcuni momenti per cui non ho trovato quel ritmo nella scrittura che avrei voluto e qualcuno giustamente potrebbe dire sì ho capito ma se tu sai che già la storia non ti piace perché sei andato a vedere il film beh innanzitutto perché è mio lavoro ma poi perché io non do mai per scontato nulla magari questa reinterpretazione per quello che potevo saperne avrebbe anche potuto piacermi e invece mi ha annoiato molto io sono uscito dalla sala tediatissimo dura due ore un quarto mi sembravano sedici non finiva più nonostante sapessi già dove sarebbe andato a parare nonostante sapessi già la storia mi sembrava che Brodo fosse troppo allungato se non sbaglio la BBC ha realizzato una miniserie di un paio di anni fa che a mio modesto parere tratta la materia molto meglio rispetto a film da Gerwig però c'è anche da dire che non si può paragonare questo film alla miniserie perché per appunto la miniserie ha più tempo per sviluppare la storia quindi sono due tipi di narrazione completamente differente però dico solo che mi era piaciuto di più quel tipo di approccio però effettivamente era anche una miniserie quindi probabilmente funzionava di più in quanto era tutto più diluito ma non allungato qui invece ho trovato proprio un allungamento del brodo come se la Gerwig volesse a tutti i costi far durare il film più di due ore perché i film che durano di più sono più effettivamente non è proprio sbagliatissimo con un ragionamento graditi a quelli dell'academy fateci caso spesso e volentieri vengono candidati film che sono lunghissimi come se la lunghezza di un film gli desse più lustro non lo so se è una coincidenza però effettivamente basta anche guardare quali sono i film candidati ai Golden Globe ai BAFTA e altre premiazioni Once Upon a Time in Hollywood tre ore di film The Irishman sto neanche a dirlo Parasite che anche quello è bello lungo Joker beh no ecco Joker ha una durata normale però effettivamente se anche andate a guardarvi le candidature negli anni precedenti alle varie premiazioni vi rendete conto che sono sempre film molto insomma molto sostenuti nella lunghezza sembra quasi che la Gerwig abbia cercato di infarcire il suo film di tutte quelle piccole sottigliezze che di solito sono apprezzate dai membri dell'Academy e a me quando succede questo non è che la cosa faccia impazzire perché va bene che tu vuoi cercare di essere candidata però non andare a inficiare quella che è la struttura del film per renderlo premiabile ma questo è un discorso che faccio spesso cioè a me un po' urta quando si vede che un film è realizzato proprio per accapararsi i premi ad esempio Parasite sta vincendo dappertutto è apprezzatissimo ma Bongiunot ha fatto il suo film è un film premiabile però non è che è sceso compromessi ha fatto il suo film ed è un film straordinario però non è questo ad avermi reso un po' in viso piccole donne piuttosto è proprio una questione del ritmo cioè un film che cerca cerca di avere ritmo ma alla fine non riesce effettivamente ad averlo ma una cosa che sicuramente si salva sono le interpretazioni sono stati gli attori tutti molto bravi a partire da Saoirse Ronan che è stata secondo me splendida la sua Joe è una Joe effettivamente più sfaccettata rispetto a quella di altre trasposizioni del film mi riferisco comunque principalmente a quello con Christian Bale la Rider eccetera questa Joe ha un qualcosa in più forse perché proprio è spettacolare l'interpretazione della Ronan è stata bravissima è bellissima spregiudicata una donna comunque molto indipendente e emancipata per l'epoca poi ha dovuto anche lei sottostare a certe regole ma ha cercato di emanciparsi nella storia e diciamo che era un po' l'Alcott stessa si era un po' diciamo infusa in Joe anche se comunque poi si trattava non è che era identica a Joe però si era ispirata un po' se stessa non dico che diciamo che piccole donne ha alcune componenti autobiografiche però non del tutto perché se non sbaglio l'Alcott non aveva tutte quelle sorelle comunque si ha ha cercato di mettere un po' di se stessa nel libro creando però poi una storia che fosse diversa da quella della sua vita mi è piaciuto molto Timothee Chalamet il suo Lory è un Lory un po' più interessante un Lory anche lui un po' spregiudicato fondamentalmente un bravo ragazzo un po' ciondolone che si bella della propria ricchezza bravissima Florence Pugh o Pug non so mai come si pronuncia che abbiamo già visto in Midsommar che qui interpreta Amy Emily anche qua un personaggio insopportabile ma perché doveva esserlo lo era nel libro e lo sarà sempre perché quello è il personaggio però è stata molto molto brava a renderlo perché ha un momento di riscatto umano in cui dimostra di non essere solo una ragazzetta frivola ma è una con le idee chiare che se ha scelto di dedicare la sua vita a qualcosa nello specifico lo ha fatto perché effettivamente sa che essere donna in quel periodo storico non è semplice e allora deve fare di tutto per potersi salvare anche da un punto di vista economico però anche lei ha un sogno e ha la consapevolezza di non poter magari raggiungere quel determinato sogno per via del suo talento del suo modo di fare del suo carattere e va detto che tutte le sorelle hanno effettivamente un approfondimento maggiore rispetto a quello che si era visto in altre trasposizioni e secondo me in questo senso riprende molto il libro va detto che è un film che cerca di riprendere in maniera fedele tutto quello che è importante da trasporre poi qualcosina lo cambia per l'amore del cielo però la caratterizzazione delle sorelle forse è la migliore che si sia vista in una trasposizione eccezione fatta per quella parlo di trasposizione del libro eccezione fatta per eccezione fatta per quella della miniserie che secondo me era maggiore ma perché come ho detto avevano più tempo per caratterizzare i vari personaggi quindi non fa testo e quindi secondo me qui la caratterizzazione è ottima mi è piaciuta anche Emma Watson anche se ormai Emma Watson la vedo un po' sempre imbrigliata in questi ruoli da signorina è un personaggio interessante la sua Meg però la Watson ormai la vedo sempre con queste faccette c'è sempre questa faccia che si chiama sempre sul punto di cagare che non ho capito perché quando deve esprimere un'emozione complessa è sempre così tipo come se avessero messo uno stronzo al naso proprio non so perché e ce l'ha ce l'ha anche nella Bella la Bestia anche l'Harry Potter ma meno è iniziata ad averla negli ultimi tempi queste faccette ingrugnate che non capisco però comunque non se l'è cavata male anche Laura Dern come come madre delle ragazze mi è piaciuta lei è stata fantastica in storia del matrimonio quindi secondo me la candidaranno per quel film qui la candidatura se la becca quasi sicuramente la Ronan e soprattutto una cosa che ecco questa non mi ha fatto impazzire il padre interpretato a Bob Odenkirk Saul Goodman per intenderci nel film hanno messo un particolare che secondo me sarebbe stato necessario far presente perché noi vediamo questa zia zia March interpretata Meryl Streep che ha un ruolo risicato ma è stata bravissima da sovrastare il resto del cast a momenti perché è Meryl Streep e quindi basta che le dai un copione tipo non so anche Meryl Streep scorreggia lo farebbe comunque meglio di qualunque altro attorno nel film è incredibile ecco lei è ricchissima ed è la sorella del padre e io per tutto il film perché io questo per tutto il film mi chiedevo ma lo diranno lo diranno il perché se uno non ha letto il libro esce dalla sala senza capire perché loro sono poveri comunque non sono ricchi come la zia e perché la zia è ricca e il fratello no è stato un problema di eredità no c'è un motivo ed è un motivo anche molto importante ve lo dico perché tanto non è che è spoiler non viene detto nel film nel libro se non ricordo male lui qua anche si capisce che è un reverendo insomma che insegna catechismo che aveva aperto questa sorta di scuola e aveva ammesso una studente di colore una studentessa di colore e quindi questa scuola era una fallita perché era stato contestato per questo si capisce che lui sia non sia un razzista perché combatte nella guerra civile e combatte contro gli stati del sud quindi contro gli schiavisti va benissimo però quello che non capisco è perché non farlo presente nel film sarebbe stato anche un modo per fare un parallelismo tra il razzismo dell'epoca e per l'appunto il razzismo ai giorni nostri peraltro il romanzo descriveva molto l'epoca del colonialismo la guerra civile la questione dello schiavismo in quel senso era un bello affresco storico dell'epoca che qui ho visto poco si nomina spesso la guerra civile ma non si entra nel merito non si va molto a analizzare la questione del colonialismo si tocca giusto la superficie per quanto riguarda il comportamento dei membri dell'alta società ma non si va oltre quello è questo il punto è un film che si è concentrato molto sui personaggi e ha quasi tolto del tutto quegli argomenti che erano interessanti e di attualità all'epoca che inserirà Alcott cioè il romanzo per quanto a me rompa le palle perché è proprio una storia che non fa per me non sono in target a me le storie le d'amore del tipo sposo quello non sposo quell'altro non riesco ad apprezzarlo non ce la faccio mi rompono le palle e per dire io riconosco il grande valore letterario di un orgoglio e pregiudizio ma rompo le palle a leggerlo non è una storia che fa per me poi ho dovuto leggerlo perché ho studiato lettere moderne ho dovuto leggerlo va bene d'accordo lo leggo ne capisco il valore ma non sono obbligato a farmelo piacere è un tipo di storia che a me rompe i coglioni cioè dover star lì a sentire di questa che deve sposare tizio caio sempronio oh mio dio mi viene da dire mamma mia ma che due coglioni mi leggo che palle però però quello è il mio gusto personale ma cerco anche di avere un approccio un po' più approfondito perché mi rendo conto che era un testo per l'epoca un orgoglio e pregiudizio molto progressista in quel senso considerato proto-feminista e quindi capisco la sua importanza d'accordo non si può dire lo stesso come con piccole donne che è una cosa un po' diversa ma vabbè quindi diciamo che per molti motivi il film come potete notare a me non è riuscito a trasmettere nulla non mi sono mai non mi è mai sceso una lacrima non mi sono emozionato per nulla ero passivo come poche volte sono stato negli ultimi mesi andando in sala non mi ha trasmesso nulla e credetemi ho cercato di andare oltre il fatto che la storia non mi facesse impazzire quindi mi sono concentrato sull'aspetto anche tecnico ho letto molti dire la regia è sublime adesso io voglio sapere cosa c'è di sublime in questa regia non ho visto un solo guizzo una sola idea registica che mi abbia fatto pensare beh questa inquadratura è veramente ben fatta questo movimento di macchina è ottimo è una regia non brutta è normale c'è stato solo un momento in cui c'è stato un parallelismo a livello di regia a livello di montaggio tra due situazioni che mi ha fatto pensare ecco questo mi è piaciuto uno in due ore un quarto di film non che il resto sia brutto ma io non ci ho visto niente di che anche la fotografia luminosa solare con una contrapposizione tra il presente in cui era più più cupa e scura come dire che la giovinezza le speranze dell'epoca ormai sono andate via bisogna andare avanti bisogna crescere è contraposta per la punta la luminosità della fotografia delle parti in flashback sì d'accordo carino come spediente ma non mi ha colpito non è niente né di originale né di eccelso è una buona idea per l'amor del cielo ma non è che ci sia questa fotografia che mi fa gridare al miracolo no onestamente non mi ha fatto gridare al miracolo non mi ha fatto pensare ah però interessante questo è anche il montaggio anzi se vogliamo stare a guardare il montaggio è uno dei problemi di fatto questo continuo ping pong squilibrato nel senso modo che non c'è equilibrio di durata tra le parti in flashback e le parti del presente è quello relativo al montaggio è un montaggio che ha un ritmo un po' epilettico in quel senso per cui io non non mi sono sentito entusiasmato da quel punto di vista ma per niente per cui è questo il punto è un film che non è riuscito a emozionarmi non un film brutto un film con delle idee che a volte possono anche essere interessanti ve l'ho detto se notate non ne ho parlato male non sto dicendo che sia brutto no è normale buone le interpretazioni mi è piaciuto anche lui Garrel che vabbè interpreta un personaggio importante ma solo verso il finale non mi è dispiaciuto come hanno reso la fine di tutto poi io vi dico il film comunque non sta andando male è stato apprezzato probabilmente ha ricevuto candidatura agli Oscar oltre che altri premi altre premiazioni per cui non è scontato che rimanga qui perché ricordiamoci che i libri se non sbaglio sono tre volete che a fronte di un successo interessante non realizzino piccole donne crescono che hanno già il libro pronto secondo me prepariamoci perché tra un paio d'anni o al massimo tre lo vediamo in sala sempre della Garewig e con gli stessi attori io sono convintissimo però comunque da un punto di vista interpretativo posso dire che le tre migliori i tre migliori attori slash attrici del film sono state senza dubbio la strip la Ronan e Florence Pugh Chalamet bravo anche lui lo metterei al pari della Pugh bravissimi entrambi mi fa piacere che abbiano valorizzato attori giovani però diciamo che è un film non viene anche da dire avrebbero potuto farlo meglio forse la Garewig ha cercato di farlo nel miglior modo possibile non dico di no l'impegno l'ho visto perché non è che non l'abbia visto è solo che mi viene da pensare che questo film se viene candidato è più che altro per non sentirsi dire che non candidano abbastanza registe donne secondo me cioè il che sarebbe terribile a mio modesto parere terribile perché io personalmente se fossi un attore un regista comunque un artista vorrei essere candidato non in quanto uomo o in quanto o per il colore della mia pelle e quant'altro ma perché ho fatto qualcosa di ottimo ora a me viene io sono sempre stato convinto che Lady Bird sia stato candidato per ovviare a quella polemica perché non era la candidatura e francamente per me se è così è una cosa per me è una cosa terribile perché non è il punto è questo non è che vogliono essere inclusivi vogliono non avere non vogliono avere rotture di palle poi qualcuno potrà dire no deve essere candidato e fermi secondo me il film sarebbe giusto candidarlo al migliore attrice protagonista e magari migliori costumi migliore scenografia però già se non lo so mi dovessero candidarlo dovessero candidarmelo e questo probabilmente mentre ne sto parlando voi lo sapete già lo candidassero alla sceneggiatura mi verrebbe da dire ma perché cioè che cazzo c'è sceneggiatura non originale ma per quale motivo se me lo candidassero come miglior film rimarrei perplesso cioè perché se dovessero lasciare fuori qualcosa di più meritevole per questo mi girerebbero le palle non lo so è un po' come è un po' come la coppola che viene incensata ma non capisco perché cioè perché la coppola viene così incensata no posso capire Lost in Translation ma gli altri gli altri boh non lo so quindi la Gervig mi sa di una regista un po' sopravvalutata poi lei è anche attrice nell'ambito indie si è fatto un nome per me ha una regia normalissima niente di che quindi non lo so onestamente perché venga così tanto apprezzata ma probabilmente è un limite mio perché se apprezzano così tante persone è evidente che sarò io davvero un problema però vi giuro io non sono andato neanche prevenuto a vedere il film io sono andato a vederlo e dicevo ma sì dai andiamo a vederlo magari è carino perché qualcuno me ne ha parlato bene eppure no io vi ho spiegato ho cercato di spiegarvi nella maniera più ho cercato io di essere il più distaccato possibile da quello che mi ha suscitato il film per farvi capire come mai non lo abbia apprezzato perché al di là di quello che può suscitarmi è proprio una questione di messa in scena di narrazione di di come gestire le linee temporali non mi ha fatto impazzire non mi è piaciuto in quel senso non rimane non è un brutto film è un film comunque che sicuramente molti troveranno piacevole e io non posso dire che sia un film brutto però mi ha annoiato brutti i film brutti sono altri l'ho trovato palloso è brutto non è un termine molto professionale però vi ho detto nella maniera più tecnica possibile anche il perché non mi sia piaciuto quindi mi sento di usare il termine palloso per entrare nella colloquialità per me è stata la noia però un film che magari mi è annoiato non significa che ci deve essere un brutto film probabilmente non era nel mio accordo quello che stava raccontando ma è anche secondo me un problema di struttura poi ovviamente se a molti è piaciuto io gli è gli è gusto gli è proprio gusto però non è il film bello che tanti mi dicevano a mio modesto parere fatemi sapere un quinto qui sotto cosa ne pensate voi perché secondo me qua c'è da discutere mi raccomando se non siete d'accordo con me non c'è bisogno di dire ah capisci un caso parliamone cerchiamo di di parlarne perché tanto lo so che a tantissime persone è piaciuto quindi cerchiamo di discutere in maniera civile che tanto stiamo parlando di un film non stiamo parlando dei massimi sistemi lo dico sempre non che non sia importante un film ma non abbastanza sicuramente non è abbastanza per scannarsi cioè vi prego ok scannarsi su piccole donne anche no quindi io vi abbraccio questo è stato tanto ma tanto ma tanto ma tanto bene io spero troppo non ci vediamo al prossimo video se il film l'avete visto se invece l'avete visto e avete saputo nello specifico gli spoiler iniziano tra tre due uno allora dunque innanzitutto questa cosa del continuo salto all'inizio ancora ancora la potevo capire ma man mano che il film va avanti abbiamo un ping pong che è veramente insopportabile tra presente e passato io non ce la facevo cioè pensavo ma perché mi fanno cinque minuti al passato e poi venti secondi al presente e torno ancora al passato non ha senso questa cosa anche perché tornavano al presente per raccontarti due cose fugaci che non erano neanche particolarmente interessanti a mio modesto parere non è che non era neanche una grande contrapposizione mentre quando mostrano Joe che si sveglia la prima volta che Berta era stata male vede che il letto è vuoto scende e la trova invece al tavolo che si era ripresa e erano tutti felici si contrappone alla scena di quando lei sta male nel presente tutto più scuro più cupo come fotografia lei che scende trova la madre che piange seduta al tavolo perché Beth è effettivamente morta tra l'altro il punto secondo me qua è proprio sbagliato nel modo in cui viene messa in scena la cosa si parla della scarlattina poi Beth si aggrava ancora e a me inizialmente era venuta a dire minchia ma quanto cazzo è durata sta scarlattina in realtà no la madre a un certo punto dice la febbre ha indebolito il cuore ma è un po' confusa come cosa cioè sembra che sta scarlattina le sia durata 20 anni invece no semplicemente la scarlattina le aveva indebolito il sistema immunitario lei poi si è presa un malanno che è stato molto difficile per lei da superare infatti non ci è riuscita non l'ha superato perché era stata indebolita la scarlattina ma da come la mettono giù sembra che lei sia malata di scarlattina da anni no non è così però questa è una sottigliezza però ho sentito alcuni in sala uscire e dire ma questo qui scusa ma quanto gli ho durato la scarlattina vuol dire che magari non è reso in maniera chiarissima il finale mi è sembrato un po' frettoloso la parte finale un po' accelerata peraltro io devo essere sincero ho trovato interessante la questione che è interessante che il libro qua forse è un po' più accentuata la questione del la questione mita nel libro è molto metà letterario è un po' è metà narrativo più che altro perché Joe scrive un libro che si chiama Piccole donne che parla della sua vita ma lo fa come personaggio del romanzo Piccole donne mindfuck bella come cosa se ci pensate è carino e c'è una cosa che è un po' poco chiara per come è messa giù cioè lei non fa non fa praticamente non voleva far sposare il suo personaggio quando ti raccontano di lei che va alla stazione te lo raccontano come se lei fosse il personaggio del libro ma sembra quasi che lei alla fine non si sia sposata con il professore francese alla fine però sì e io ero lì che dicevo ma quindi l'hanno fatta sposare col francese sì o perché poi era tedesco nel libro ma vabbè ma l'hanno fatta sposare col tizio oppure no però ci sta cioè non è male quel montaggio mi è piaciuto non l'ho trovato un malaccio anzi quindi qualcosa di positivo nel film c'è anche però ad esempio tutta la parte di lei che respinge Lori lui che trova la sorella peraltro trova la sorella si mette con la sorella se la sposa ma è palesemente un ripiego nel film sembra meno un ripiego nel romanzo era molto più un ripiego però nel romanzo lei era contenta per loro due qua invece fa buon viso a cattivo gioco deve inghiottire l'amaro boccone perché lei voleva rimetterci con Lori ma in realtà lo faceva solo perché di base non voleva stare sola quindi anche qua tutto il discorso che fa lei io mi voglio sposare io voglio stare bene e poi arriva io mi sento terribilmente sola mi va un po' puttano il messaggio di prima cioè capito il fatto lei non mi voglio sposare è l'emancipazione che poi si viene ritirata con un però mi sento sola quindi dai sposamose così non sto più sola cioè il personaggio è tutto femminista tutto progressista io non mi sposo sono emancipata finiremo con l'ucidio dice yeah yeah un secondo poi mi sento sola ok ma perché ok poverina ha perso la sorella va bene però tu non è che puoi dire dai dopo tutto questo pippone di te che sei emancipata è tutto ma mi vorrei sposare perché sai mi sento sola alla faccia alla faccia del ripensamento minghie quindi anche qua mi è andato un po' puttana di senso anche perché nel libro non era così quindi non ho capito perché la Gerwig abbia voluto rimaneggiare tutto in questo modo omenestamente non lo so però ad esempio tutte le parti con la zia che è un personaggio fantastico mi sono piaciute poi un personaggio che ho adorato è il nonno di Lori quest'uomo molto tenebroso però un gentiluomo d'altri tempi che si affeziona tantissimo a Beth perché gli ricordava molto la figlia che lui aveva perso anni prima e cosa succede Beth muore che sfiga quest'uomo mi faceva una pena perché era un bravo uomo era proprio un bravo signore ricco filantropo che si è preso a cuore queste ragazze che erano le sue vicine di casa nonostante non fossero ragazze dell'altra società di famiglia di estrazione un po' più povera ha perso la figlia ma ne trova un'altra che gli ha ricordato e muore anche quella si minchia ma che sfiga è bello che il film inizia con una citazione a Luisa che dice la vita è già abbastanza triste è per questo che scrivo storie allegre minchia perché se scrive storie triste che cazzo succedeva gli schioppa una sorella gli schioppa una sorella e quest'altro gli ha già schioppato la figlia sta male peggio perché schioppata pure la ragazza in cui rivedeva la figlia andare a Lourdes signor Lory visto che sono nipoteva in Francia vado in Francia e vado a Lourdes per carità di Dio quindi insomma però al di là di questo ha proprio dei momenti che ho trovato tediosi tutta la parte l'ultima parte la parte finale per me è veramente troppo è frettolosa ma allo stesso tempo mi ha annoiato cioè condensa tanti avvenimenti ma non lo fa in maniera o meno per me non lo ha fatto in una maniera che fosse per me coinvolgente io ero seriamente tediato non ne potevo più quindi è un film che non definisco brutto ma io non sono riuscito a definirlo coinvolgente mi ha un po' annoiato poi per amore del cielo la parte iniziale è più di introduzione ai personaggi li approfondisce poi comincia la storia vera e propria il rapporto con Lory il rapporto con Meg che si sposa con Joe che dice no dai andiamo via non voglio perdere dice ma io mi sto sposando io voglio sposare voglio fare una famiglia il tuo sogno non è il mio sogno lei che va a New York incontra il professore anche lì il rapporto te l'hanno spiegato un po' col culo il rapporto tra loro due perché da come te lo spiegano sembra che loro due si siano visti due volte in realtà si vedevano spesso e nel romanzo faceva anche capire che insomma trusciavano un po' quindi nel film te la fa capire un po' poco questa cosa siamo quasi si siano appena incontrate all'inizio quindi è un po' confuso anche nella narrazione in alcuni momenti dal mio modesto punto di vista quindi questo è quello che pensavo in maniera un po' più specifica circa piccole donne di Greta Gerwig se non è tutto cosa ne pensate perché sono molto curioso io vi abbraccio che sono tanto ma tanto ma tanto bene e noi ci vediamo al prossimo movieblog ciao a tutti ciao a tutti Grazie.